Il corso online al quale ti sei insieme Il corso online al quale ti sei insieme Il corso online al quale ti sei insieme Ricordiamo che il corso è realizzato dall'Ente Bilaterale Turismo Toscano con il contributo dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo Ora puoi cominciare il tuo corso, ricordati di fare il test finale e potrai scaricare l'attestato Se sei un utente registrato in incontro www.turismolavoro.it, il software di EBTT per la ricerca di lavoro nel turismo in Toscana La tua formazione verrà registrata nel tuo profilo con il marchio di qualità EBTT Buon lavoro!